5, 4, 3, 2, 1, vai! piega sinistra, Ebiri, tornante destro lungo, ripeto, tornante destro lungo, apre 5 alla fine, vai, 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 tutto giù, 50, piega destra, piega sinistra, 70, Ebiri, tornante sinistro, non dall'area, 200 pieni, tieni destra, vai! destra 4, ripeto, destra 4, e subito Ebiri, sinistra 3, apre, sinistra 3, apre, 50, destra 5, diventa 4 o meno alla casa, 4 o meno qua, 50, subito Agli Alperi, destra 3, apre, destra 3, apre, sinistra 4, lunga occhio, 4, lunga occhio, 80, destra 4, diventa 3, Ebiri, ripeto, destra 4, diventa 3, Ebiri, 50, Ebiri, sinistra 3, lunga, ripeto, sinistra 3, lunga, in accenno destro, e al cartello blu, sinistra 5, destra 5, sinistra 5, destra 5, e diventa sinistra 4, sinistra 4, subito, inversione sinistra, 100 sali, allo specchio, destra 4, attenzione, destra 4, attenzione, ai cartelli, sinistra 4, apre, vai, 100, vai, 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 sinistra 4, apre, 100, al dosso, destra 5, credici, ripeto, destra 5, credici, 50, Ebiri, destra 4, in sinistra 4, due tembi, sinistra 4, due tembi, diventa 5, 50, vai, 50, Ebiri, destra 4, meno, ripeto, destra 4, meno, sinistra 4, no, sinistra 4, no, 50, a rail sinistra 5, 2 tembi, diventa sinistra 4 meno l'ultimo zip, 50, a Ibiri destra 4 lunga in sinistra 3, 4 lunga in sinistra 3, sinistra 3, subito destra e sinistra 4, ripeto subito destra e sinistra 4, a Ibiri destra 4, ripeto a Ibiri destra 4, in piega sinistra, piega sinistra al cartello, sinistra 5, 50, subito a Ibiri sinistra 3, 2 tembi, sinistra 3, 2 tembi, piega destra lunga lunga non tagliare, piega destra lunga lunga non tagliare, Baiti che diventa sinistra 3, qua diventa sinistra 3, per destra 4 apre, 50, piega sinistra e vai 50, ripeto piega sinistra e vai 50, e a rosso destra 4, 2 tembi, apre al secondo, destra 4, 2 tembi, apre al secondo, 1, 2, per accenno destro, e piega sinistra, accenno destro e piega sinistra, subito destra 4, destra 4, che diventa sinistra 4 lunga, sinistra 4 lunga e piega destra, sinistra 4, sinistra 4, 50, destra e sinistra tieni sconnessa, destra e sinistra tieni sconnessa e piega destra, subito destra 4, Romeno stai sotto, destra 4, Romeno stai sotto, qua stai sotto, 80, destra 4 più, ripeto destra 4, più, e vai scendo a rosso, sinistra 4, apre ripeto, a rosso, sinistra 4, apre 50 diventa a destra, 4 meno meno, destra 4, meno meno 80 al ponte, sinistra 5, ripeto al ponte, sinistra 5 e vai 200, tutto giù, vai 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 scicando, ingresso destro vai vai piega sinistra, subito destra 4 non dagli aree, destra 4 non dagli aree, in sinistra 4 destra 4, non dagli aree e diventa sinistra 4, 2 tempi sinistra 4, 2 tempi subito destra 5, meno destra 5, meno che diventa sinistra 4 subito destra 4 destra 4, 50 al cartello destra tre occhio ripeto destra tre occhio in sinistra tre lunga non dagliare tre lunga non dagliare che diventa destra tre lunga vai tieni occhio vai 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 ok stop grazie a tutti